Questo video è il ringraziamento alla fondazione della comunità Monza e Brianza Ollus per averci donato una somma di denaro utilizzata per l'acquisto dell'ozonizzatore. Questo tipo di macchinario viene utilizzato in supporto alle normali procedure di detersione e disinfezione dei nostri mezzi. L'ozono, gas altamente ossidante, permette di sanificare anche le aree più difficilmente raggiungibili di ambulanze, furgoni e macchine. Grazie da parte di tutti noi!